Via, facciamo la correzione della verifica sulla scomposizione dei fattori dei polinomi che riguardava le tecniche di R, polimento totale, parziale e proprio notevoli quindi solo una prima parte delle tecniche, ma comunque Allora, esercizio 1A scomponi 3xy-12y la seconda più 18y la seconda Qui ho un trinomio E la prima cosa che riguarda è se ci sono fattori comuni in accoglimento totale 3, 12 e 18 sono tutti moltiplici di 3 Inoltre, xy, x la seconda, x la seconda e x contengono tutti la lettera y Quindi, dal primo rimane solo la x In secondo, meno diviso più, fa meno 12 diviso 3, 4 y la seconda diviso y, fa y E infine, più diviso più, fa più 18 diviso 3, 6 x la seconda rimane y diviso y, fa 1, non c'è più Fine Lì, dentro la parentesi non posso fare altro perché questo non è un proto notevole e lo posso raccogliere in modo parziale B Scomponi x per 2y più 3 meno x per 2y più 3 più ho messo la parentesi, potremmo anche non metterla per suggerirti che cosa raccogliere 2y più 3 Ovviamente la parte comune è la parentesi 2y più 3 che c'è dappertutto Quindi, raccolgo il raggiungimento totale 2y più 3 Dal primo termine rimane solo x Dal secondo, meno y E dall'ultimo, visto che questo e queste parentesi sono identiche qualsiasi cosa diviso se stessa fa più 1 Non 0 Ok Ultimo della parte A Posso andare avanti? Sì Dimentico 1c Era x più 3 mezzi xy Meno 1 Meno 3 mezzi xy Qui ho 4 termini Ok E che non hanno fattori comuni Forse altro per il fatto che 1 è meno 1 Quindi meno 1 non può avere fattori comuni con nessun altro Quindi l'avvento totale non lo posso fare Provo con quello parziale Ok Per esempio, considero i primi due nomi Questi hanno in comune solo x Quindi raccolgo x dai primi due x diviso x fa 1 3 mezzi xy diviso x fa 3 mezzi y Guarda qua, questo è proprio identico a questo a parte il segno Quindi qui raccolgo solo un meno Adesso queste parentesi e queste parentesi sono identiche Quindi raccolgo 1 più 3 mezzi y Dal primo termine mi avanza x Dal secondo Questo Sono opposti, se li divido mi resta meno 1 Domanda? Si poteva raccogliere 3 mezzi e 3 mezzi insieme Certo E poi x e meno 1 Tu doveva fare il primo e poi il quarto e poi il secondo e quarto e il primo e terzo Non cambiava niente Comunque arrivavi qua E' tutto il numero 2 Vado avanti 2a Riconoscimento di proti notevoli 9a alla seconda Meno 6a Più 1 Questo è un trinomio Ok? Il proti notevole che ha tre termini E' solo il quadrato del binomio E lo è Beh, questo termine è il quadrato di 3a Questo è il quadrato di 1 E 6a è 2 per 3 per a Poi viene davanti Di conseguenza questo posso scomporlo come Il primo termine Cioè il termine di cui il primo è il quadrato Meno il secondo Perché il doppio prodotto è negativo 9a alla seconda Meno 6a Più 1 Non è il quadrato di 3a meno 1 Ok? Domande? Attenzione Se non scrivo questo L'esercizio non è completo Il riconoscimento dei termini Prelude a questo In assenza di questo L'esercizio non lo fa Il scopo è scomposto 2b B alla seconda Meno 49 Un binomio È una differenza È una differenza di 2 quadrati Il primo è il quadrato di b Il secondo è il quadrato di 7 Quindi B meno 7 Per B Più 7 Utilizzando la regola A alla seconda Meno B A Meno B Qui A grande è B E B grande è 7 Perché B quadrato è 49 B è 7 Ok Ultimo X alla terza Più 27 Binomio X alla terza Se ho un 3 in alto a destra Vuol dire che è un cubo Anche questo lo è Certo 3 per 3 per 3 fa 27 Questo è il cubo di X Questo è il cubo di 3 È una somma di cubi Che si scompone come La somma di X è 3 X più 3 Per Quadrato del primo X alla seconda Meno il loro prodotto 3X Più il quadrato del secondo 9 Attenzione Non il loro prodotto Non il più A alla terza Meno B alla terza Anzi più B alla terza È A più B È A alla seconda Meno AB Più B E io posso fare altri Che vedete la parola Sino non quadrato Ultimi due Vedete quando siete pronti 3A 3A Y alla seconda Più 4X Più 4 Meno 9Y alla seconda Quindi ho 4 termini E ho 1 2 quadrati E queste le opposte Di un quadrato Questi 3 Sono un quadrato Il quadrato di X Il quadrato di 2 E il loro doppio prodotto Quindi X più 2 Alla seconda 9Y alla seconda E il quadrato di 3Y Quindi questa è una differenza Di quadrati Si compone come X più 2 Più 3Y La loro somma E la loro differenza X più 2 Meno 3Y Vado avanti L'ultimo 3B 3X La terza Meno 12X Potete controllare Più 1B Più 1B 3 non è un cubo Anche se X alla terza Lo è 12 non lo è Prima cosa che guardo L'appoglimento totale Posso farlo Perché 3 e 12 Sono entrambi Multipli di 3 X alla terza E X Sono multipli di X Quindi rappoglio 3X Il massimo Comun divisore Tra 3X alla terza E 12X Dal primo Vi rimane X alla seconda Più diviso O meno O meno 12 diviso 3 4 X diviso X Meno 1 Ma poi Sto in differenza Di quadrati Si scompone ancora Non posso Fermarmi qua 3X X fio 2X X fio 2X Meno 2X Adesso finir Tutto chiaro? Terminiamo qua Perché adesso Fate esercizi voi O facciamo il ripasso Di geometria O facciamo il ripasso